Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Vi vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1 dove troviamo rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e P1 variante. In a 11 rallentamenti per traffico intenso in direzione mare tra Alto Pascio e Lucca Est. Stessa situazione in Fipili tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest ancora una volta in direzione mare. L'ultima pagina per il trasporto pubblico locale da domani 19 febbraio fino al 9 marzo. Inclusi la funicolare di Certaldo sarà chiusa al pubblico per lavori di collaudo e manutenzione. Nel periodo di chiusura sarà attivato un servizio di trasporto alternativo denominato Pollicino in funzione dalle 7.30 alle 19.30. Inclusi sabato e domenica. Oltremmo i dettagli sui nostri canali social. Buonasera di Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meravolta di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.